Buonasera a tutti, è davvero un grande onore, una grande gioia avere a Pordenone Legge Jonathan Co, grazie davvero di essere qui. Permettetemi di ringraziare moltissimo Masolino D'Amico che dialogherà con Jonathan Co e un ringraziamento a ConfCommercio che è partner di questo evento. Buona serata a tutti voi, grazie ancora. Siete talmente tanti che credo che non c'è bisogno di presentare Jonathan Co perché immagino sapete già chi è, altrimenti non sarete venuti su per uno sconosciuto. Comunque Jonathan Co è un scrittore inglese di soprattutto ma non esclusivamente di narrativa, ha scritto una dozzina di romanzi che sono stati quasi tutti tradotti in italiano e hanno quasi tutti avuto molto successo, un paio addirittura si inseguono con gli stessi personaggi che vanno in un altro. L'occasione della sua venuta è di un libro che non è proprio caratteristico della sua produzione ma che peraltro non smentisce affatto quello che sapevamo di lui. E' un libro per ragazzi che si chiama Lo specchio dei desideri, è un libro più breve degli altri ma come gli altri è una storia e più degli altri è leggibile anche come un apologo. Anche gli altri libri di Jonathan Co sono leggibili come apologhi ma questo è più nascosto perché sono più storie in cui c'è molto più il gusto di seguire la storia, appassionarci ai personaggi. E' solo dopo che uno magari si ferma e vede che c'è un disegno dove l'autore ci vuole portare. Comunque questo particolare libro qui è proprio una fiaba moderna raccontata a dei ragazzi. Io prima di parlare di altri libri magari più per adulti vorrei proprio domandargli come si avvicina alla narrativa per ragazzi. E' difficile per scrivere per ragazzi? E' facile scrivere per ragazzi? Perché si scrive per ragazzi? E' giusto scrivere per i ragazzi? O non sarebbe meglio che i ragazzi leggessero libri per adulti e poi si adattassero? Buonasera a tutti. It's the end of my Italian. And thank you all for coming. Why did I write a book for children? Well, I'm often asked about my adult books. Do you think about the reader who is going to read this book? Do you have an idea of the reader in your mind? Is it a man? Is it a woman? What age is he or she? What country does he or she live in? And the answer is always no. It's an impossibility really for a writer to imagine the kind of person who is going to read the book. Because look at you all. There's an incredible diversity of people who read my books and read every other writer's books. So I don't think about the reader when I write. That's not to say that, you know, I don't want the reader to enjoy the book. It's not to say that I haven't got the reader's pleasure in my mind as I'm writing, but I don't try to imagine who it is. And for me it was no different with this book. Ci fermiamo un momento, facciamo sentire, sentiamo la traduzione, c'è lì? Ok. Bene, innanzitutto grazie a tutti per essere venuti qui questa sera. Cominciamo con la prima domanda, ma perché un libro per bambini? Beh, spesso mi viene chiesto, mi è fatta una domanda molto simile riguardo ai libri per adulti, ovvero mi viene chiesto, hai in mente il lettore futuro del tuo libro quando ti metti a scrivere? E la mia esposta è sempre la stessa, ovvero no. Semplicemente perché è impossibile provare a immaginare per un qualsiasi scrittore chi sarà il lettore dei suoi libri. Guardate così il pubblico che c'è qui in sala questa sera, siete così tante persone, una assolutamente diversa dall'altra. Dunque no, non ho mai in mente, non penso mai a chi sarà il futuro lettore dei miei libri. Questo non significa che non ho a cuore il divertimento di chi si prenderà in mano le mie pagine. Semplicemente mi è impossibile immaginarmi chi questa persona sarà. Does the fact that it's about magic make it a children's book? I don't know, it's a very short book, it's written in a very simple style. Does that make it a children's book? I'm not sure. I wrote it because I wanted there to be a book of mine which my daughters could read because they're always asking me questions about my books but they haven't read any of them yet. So I wrote it for that reason but you know, I didn't have, I didn't think of the age I was writing for, I didn't think of the gender I was writing for, I just had an idea and this was how it came out. Non so nemmeno se serve definire questo libro come un libro per bambini. È un libro che sicuramente parla di magia. La ragazzina all'inizio del libro, che è la protagonista, trova un frammento di un vetro rotto, di uno specchio rotto, la trova in una discarica. È uno specchio rotto che ha poi delle proprietà magiche. Ecco, questo, il fatto che ci sia della magia nel libro ne fa un libro per bambini? Non lo so dire. È un libro breve, è un libro che usa un linguaggio molto semplice. Anche queste sono caratteristiche che ne fanno un libro per bambini? Non lo so, non so dirlo. Sicuramente è un libro che ho scritto perché lo leggesse mia figlia. Mia figlia mi chiede spesso di cosa parlano i miei libri. Allora volevo che avesse un libro che potesse leggere anche lei. Però sicuramente quando l'ho iniziato a scrivere non avevo assolutamente in mente l'età che avrebbero avuto i miei possibili lettori, se sarebbero stati maschi o femmine. Semplicemente avevo un'idea in mente ed è da lì che è nato il mio libro. Questo libro segue uno schema molto comune di tutti, anzi addirittura un grande schema narrativo, quello che si chiama Bildungsroman, cioè un libro che segue la maturazione, la crescita di un individuo. Questa è una bambina che non diventa donna, ma diventa in un certo modo grande, capisce delle cose. Un brutto anatroccolo che poi si sboccia. E questo è quello che ci aspettiamo, non c'è una sorpresa. Naturalmente la bambina è goffa all'inizio e poi cambia. Grazie all'aiuto di uno specchio magico. La differenza però trovo nel finale, nella morale, è che la crescita di questa bambina, la soluzione dei problemi di questa bambina, che poi non sono soluzioni di problemi, semplicemente diventa grande, cioè entra nel mondo, è il suo entrare in contatto con una comunità, cioè lei diventa un animale sociale, entra a far parte di una comunità e tutta questa comunità, così come la vede, come la accoglie, è una comunità in qualche modo un po' magica. Cioè lei non si adatta al mondo degli altri, ma è un po' un mondo che si adatta a lei, una società che diventa una specie di apologo ottimista su un futuro migliore. Che gliene pare di questa lettura? Qualche cosa da commentare? Yes, I didn't have an ending for this book in my mind when I began writing it, which is unusual for me. Normally even with a very long and complicated novel of mine, like La Familia Winshaw, for instance, the ending of the book is always predetermined, but here was a book which I wrote much more quickly than that, which is much shorter than that, and yet when I began it, I wasn't sure how it was going to end. Quando ho cominciato a scrivere questo libro non avevo assolutamente in mente quale sarebbe potuta essere la fine del libro, cosa abbastanza insolita, perché in genere quando scrivo i libri, anche quelli un po' più lunghi, un po' complicati, tipo la famiglia Winshaw, ho sempre bene in mente come andrà a finire la storia. Questo non è successo nel caso di questo libro, all'inizio della scrittura non sapevo come sarebbe finita. And the book begins as a fantasy. When the girl finds this fragment of mirror, the things that it reflects, which are not the same things she sees in her own real world, are from mythology and from fairy tales. she sees dragons, she sees unicorns, she sees fairy castles, and gradually as she matures and as she develops, the mirror that she possesses is no more reliable in reflecting the real world because everything she sees in it is still different, but it's more subtly different, it's more subtly better. And she starts to realize that it reflects a world which is not the one that she lives in, but the one, but the world as it should be. Il libro comincia con un lavoro di fantasia. Proprio quando la bambina trova questo specchio rotto inizia a vedere da questo specchio rotto i riflessi, dei riflessi particolari che vengono tutti dal mondo delle fate e della mitologia. Vede fate, unicorni, castelli incantati, eccetera. Ma poi, a poco a poco, lo specchio, man mano che la bambina cresce, comincia a riflettere delle immagini leggermente diverse. Riflettono le immagini non tanto del mondo della bambina quanto del mondo ideale, il mondo che lei vorrebbe avere intorno a sé. And when I came to write the final chapter of this book, I surprised myself in a way because I found myself wanting to, you used the word optimistic, and I found myself wanting to write something optimistic, which is not necessarily how I feel about the world these days. and the book ends with what might be called a plea or a suggestion that we all start to engage again in collective action. The thing that has been... The problem that Claire has had in her life all this time is not just her dissatisfaction with the world as it is, but it is also her loneliness. And there is a continuity between this book and my previous one, The Terrible Privacy of Maxwell Sim, because although they both seem to be very different on the surface, they're both ultimately about how to make connections with people and the importance of us all as a society becoming less and less atomized and more and more bonded in ways that are real and not just virtual and technological. Quando poi sono arrivato all'ultimo, alla stesura dell'ultimo capitolo del libro, sono rimasto davvero sorpreso di me stesso perché, sì, in certo senso mi sono trovato a desiderare di scrivere qualcosa che fosse in un certo senso ottimistico, cosa che normalmente non mi succede, ultimamente non mi sembra di vedere il mondo con uno sguardo ottimistico. Invece volevo scrivere qualcosa che fosse di questo tono. Il libro finisce, termina, con una sorta di richiesta o forse potremmo dire di suggerimento rivolto un po' a tutti, perché tutti in quanti si cimentino in una serie di azioni, di comportamenti collettivi. Claire, in questo momento, non ha soltanto il problema di essere insoddisfatta con il mondo che la circonda, ha anche il problema di sentirsi molto sola. In questo senso vedo un collegamento con il libro precedente, che è uscito prima di quest'ultimo, i Segreti di Maxwell Sim. In superficie i personaggi principali sembrano essere molto diversi uno dall'altro. In realtà c'è qualcosa che li lega profondamente, e cioè l'importanza di riuscire finalmente a essere tutti collegati gli uni agli altri, a essere meno soli, ad essere più vicini alla realtà, quindi allontanarsi invece da questo mondo virtuale, il mondo tecnologico che in realtà ci tiene separati. Sì, anche nel mondo di Maxwell Sim, questo succede all'indietro, perché il protagonista scopre pezzi del suo passato, anche dei pezzi allarmanti del suo passato, anche attraverso la cibernetica, attraverso i computer, attraverso delle cose rimaste in computer e di altri personaggi. Però quello lì, Maxwell Sim, è presentato come un perdente, a differenza di questa bambina. È uno dei personaggi, direi non dico proprio classici, ma insomma Jonathan Coe ha spesso questi personaggi disfigati, di perdenti, che si arrabbattano e alla fine non è che si trovano molto meglio che all'inizio. Well, I'm not sure I would agree with that. I think that Maxwell Sim is better off at the ending of my novel than he is at the beginning. At the beginning, he's lost. He's lost his bearings, his emotional bearings. He's lonely. His wife and daughter have abandoned him. He has a terrible relationship with his father. He has a few hundred friends on Facebook, but he realizes that this doesn't actually help him in his day-to-day life. By the ending of the book, he has acquired at least self-knowledge and that to me seems like a big development, not just for him, but for any character. Non sono sicura di voler condividere questa valutazione. Maxwell Sim, secondo me, alla fine del libro sta molto meglio di quanto non fosse all'inizio del libro. All'inizio è perso, ha una vita emotiva a pezzi, è solo, la figlia e la moglie lo hanno abbandonato, non ha un vero e proprio rapporto con il padre. Sì, è vero, ha un centinaio di amici su Facebook, ma nessuno di questi è lì pronto ad aiutarlo. Quindi, invece, alla fine del libro, Maxwell assume una vera e propria consapevolezza e questo è un grosso sviluppo, non solo per Maxwell, ma un po' per tutti i personaggi. e ciò che succede a lui nelle ultime pagine del libro dà un tipo di autoconavimento completamente diverso e lo portano a un tipo di livello all'inizio come un caratteristico. Ma Raffaella è ancora leggendo queste ultime 4 o 5 pagine. L'abbia leggendole prima di arrivare e ho promesso che non potrei dire niente di più sulle cose. Alla fine del libro, proprio nelle ultimissime pagine, Maxwell acquisisce una nuova consapevolezza di se stesso che lo porta ad un altro livello. In particolare, nelle ultime 4 o 5 pagine succede qualcosa di importantissimo. Però Raffaella, l'interprete, stava proprio leggendo queste ultime pagine prima di salire sul polo e le avevo promesso che non avrei rivelato che cosa succedeva in quelle ultime pagine, quindi non lo dirò. Quindi è meglio che te ne vai, finisci di leggere il libro così poi possiamo continuare questa discussione. Insomma, sì, è vero. La soluzione di questi personaggi è che alla fine sanno chi sono mentre per gran parte della storia non lo sanno. Questa è la cosa che hanno in comune questi due e effettivamente è una soluzione positiva anche se io non sono sicuro che Maxwell Sim sarà mai un gran che però perlomeno lui prende coscienza di chi è mentre prima è stato... Non ti sento. Ma i perditi sono molto più interessanti che i vincitori. Sì, mi trovo che le persone successifiche sono molto bambini. spero che... spero che non sei troppo successifiche. C'è da dire che i perdenti sono persone molto più interessanti di chi vince, di chi ha successo. Le persone di successo sono molto, molto noiosi. No, no, ma è molto... Allora, è molto difficile. What do you want him to do? Win the lottery or something? No, no, è maschio. Infatti, voglio farle un complimento. Una delle cose che sanno gli autori di teatro è che è molto pericoloso descrivere un personaggio noioso perché poi il pubblico si annoia. È molto difficile fare un seccatore perché poi diventa pesante. E questo certi autori lo sanno. Per esempio Goldoni lo sa benissimo. I seccatori Goldoni sono molto divertenti. Ora, i seccatori di Jonathan Cove sono particolarmente divertenti. Ce n'è uno che addirittura sa lui stesso di essere noioso. È noioso mentre attacca dei bottoni convulsamente agli altri però è compulsivo. E noi abbiamo questa sensazione di uomo noioso e non ci annoiamo a vederlo. Ne siamo anzi affascinati. Alla cosa posso dire è che dopo 10 novels credo che ho scritto non si può cambiare la natura e non si può è molto difficile di scrivere un tipo di persona all'interno. I'll breaka una regola e parlare del novel che ho scritto che ho avuto che ho avuto è già finito. e questo momento ho determinato che il mio main character non si può 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 e indecisive come i altri caratteri. Quindi ho ha dato un'interessante che è molto molto bene e ho fatto in un'interessante situazione e ho dato non si può non si può un'interessante beautiful che ho chiuso between e con ogni page posso sentire him growing more e più boring and more and more indecisive and it's all I can say is that these these are obviously the people I'm drawn to in literature if not in real life and I can't I can't stop myself writing about them. Beh, dicevi prima che ho scritto circa dieci romanzi e non si può andare contro la propria natura è sempre così che ho scritto e forse continuerò ma adesso rompo una regola e vi racconterò un pochino del nuovo libro quello che non è ancora stato pubblicato questa volta con il nuovo libro ho assolutamente deciso che avrei scritto di un personaggio che non doveva essere né noioso né doveva essere un pernente né debole né un indeciso e così ho deciso di dargli un lavoro interessante il quale era anche molto bravo di metterlo in situazioni interessanti addirittura non solo gli ho messo accanto una bella donna ma gli ho messo addirittura due di belle donne e poi pagina dopo pagina però questo personaggio ha cominciato a diventare un po' più noioso un po' più indeciso alla fine bisogna ammetterlo sono attirato nella vita nell'alteratura da persone come queste sì sì ma io non volevo affatto dire che scrive solo di personaggi di questo genere solo che sono alcuni che alcuni dei suoi personaggi più convincenti sono così però per esempio i personaggi i quattro ragazzi di Birmingham della banda dei Brocchi che poi ritroviamo in un secondo libro cresciuti eccetera non sono così sono ciascuno a suo modo sono molto diversi e molto caratterizzati e nessuno è un seccatore magari sono vuoti magari sono rivisti hanno i loro difetti ma come sono le persone non sono affatto caratterizzati come particolarmente deboli sì sì that's true I should read my old books more often to remind myself of how I did these things before the difference is I think that really a strange thing has happened to my writing in the last in the last six or seven years that I've written three novels in a row now this one Maxwell Sim and The Rain Before It Falls which are all completely focused through one character and one voice which I never used to do I always used to write novels which were polyphonic and which involved a large number of characters all of them given a kind of equal weight so I think that's what's changed really that these characters you're talking about who are more dynamic maybe more energetic more decisive people like Doug Anderton in The Rotters Club who are always on the fringes of my books have been pushed out of them altogether as I've concentrated on smaller shorter more concentrated maybe in some ways deeper and more psychologically probing stories so to get away from my losers perhaps this is what I need to do perhaps I need to bring back my large cast of characters which is also what I'm doing in my new book now that I think of it forse dovrei ritornare un po' più spesso a leggere i libri che ho scritto nel passato per rendermi conto meglio delle cose però devo dire che è successo negli ultimi 6-7 anni è successa una cosa davvero strana ho scritto tre romanzi di fila questo quello di Maxwell Sim e La pioggia prima che cada che sono tutti e tre concentrati su un unico personaggio hanno un'unica voce cosa che non avevo mai fatto prima prima tutti i miei romanzi erano polifonici avevano tanti personaggi appunto tante voci che parlavano invece forse proprio questo che è cambiato negli ultimi tempi è vero questi personaggi a cui faceva riferimento lei prima sono personaggi che hanno più energia sono più dinamici sono però anche dei personaggi che avevo sempre un po' messi ai margini ai limiti dei miei libri e poi alla fine li ho addirittura levati e mi sono concentrato come dicevo prima solo in un unico personaggio un po' più profondo con preoccupazioni più grosse eccetera forse per allontanarmi da questi perdenti da questi personaggi noiosi forse dovrei ritornare un pochino e ricoinvolgere i vecchi personaggi polifonici di un tempo magari funzionano ancora ecco io chissà perché trovo associo molto Jonathan Coe la sua narrativa con gli anni 70 non perché assomiglia a narrativa degli anni 70 ma perché si occupa volentieri degli anni 70 che è un'epoca in cui lui era molto giovane c'è un particolare motivo pure se ne è occupato nel passato no no in generale i 70s what are they for you why the 70s i suppose partly because this was the decade when i was growing up myself and i had a very pretty happy childhood very good time as a teenager nice stable family background and that kind of thing so i so i look back on it as from my own personal point of view as a stable time an innocent time a time when i was very content and when i had the freedom the lack of responsibility and the mental space to start becoming a writer because this was when i did start writing my first novels when i was still a teenager forse perché questo è stato proprio il decennio in cui io sono cresciuto ho avuto un'infanzia felice una buona adolescenza avevo una famiglia un background stabile positivo quindi dal mio punto di vista questi sono stati proprio dei periodi degli anni di solidità di innocenza anche di gioia era un periodo in cui ho poi goduto della libertà della mancanza di responsabilità dello spazio mentale per poter permettermi di diventare uno scrittore Also I suppose to talk a little bit more generally when I was growing up in the 70s I was very unaware really of what was happening around me politically I didn't take much of an interest and it was only when I really came to focus on that period writing The Rogers Club that I realized that in many ways it was a conflicted and violent and slightly depressed time in British history but it didn't feel like that to me at the time growing up and also you can look at it in a different way and see that this was the last decade really of the post-war consensus in Britain where governments from all different sides of the political divide were committed to the welfare state and before the kind of very violent divisions of thatcherism kicked in in the 1980s so in a way I feel a kind of political nostalgia for the 70s as well in general yes even the 60s are a period of great joy for me were also a decade of inconsapevolezza dal punto di vista degli avvenimenti politici non ero granché interessato a quello che avveniva nella sfera politica fu soltanto dopo quando cominciai a scrivere la banda dei brocchi che mi resi conto di come quel momento in Gran Bretagna fosse un momento di conflitti di depressione di forte violenza poi si può forse vedere la cosa da un altro punto di vista e cioè in quel periodo gli anni 70 sono stati un periodo di grande consenso politico nel dopoguerra nel mio paese in Gran Bretagna era un periodo cioè in cui qualunque fosse il partito al governo si pensava soltanto al benessere dello Stato al periodo della nascita del welfare state e poi è arrivata la Thatcher gli anni 90 eccetera quindi forse potremmo anche dire che quello nutre una certa nostalgia politica per quegli anni sì nostalgia politica che però mescola effettivamente questo è una caratteristica direi proprio proprio di Jonathan Coe di mescolare non proprio la nostalgia ma l'affetto per questo periodo che è quello della sua gioventù con delle punte di dramma cioè a un certo punto la banda dei brocchi sembra un libro allegro c'è una bomba in un pub all'improvviso con dei risultati devastanti quindi ci sono le due cose e come rivisitando questo passato lo ha già detto peraltro si rendesse conto del dramma che poi c'era quella era was that a question no that was a statement but you can enlarge it yeah I suppose the something that occurred to me recently is that I haven't really written an overtly political book a book about current British politics as I did in La Famiglia Winshaw for many years now I mean I consider Maxwell Sim to be quite a political book in some ways because it attempts to portray Britain realistically as it seemed to me in the year 2009 the kind of homogenized highly consumerist society we've created voted for built for ourselves Maxwell's love of these terrible motorway service stations and his preference for having a cup of coffee in Starbucks rather than a local cafe because he knows exactly what he's going to get when he gets there and in many ways The Broken Mirror is a highly political book as well because it ends with effectively what is a call for political action a political coming together but I haven't written about the current political scene in the way that I did in La Familia Winshaw mistica che guarda soltanto al bello il personaggio Maxwell è affascinato dalle pompe di benzina dalle stazioni delle autostrade dove si si ferma a far benzina e bere qualcosa lui va sempre a bere un caffè da Starbucks piuttosto che fermarsi in un normalissimo barettino semplicemente perché da Starbucks sa esattamente che cosa può avere e che cosa troverà quindi in un certo senso ha una connotazione un po' politica e la stessa cosa forse vale per questo libro Lo specchio dei desideri dove appunto alla fine del libro si invita la gente ad un'azione collettiva ad un'azione politica comune però è vero che non sono libri così politici come era stato invece la famiglia Winshaw and I would really like to write another funny book a very funny book that's my current ambition and as a reader and a viewer when I encounter a film that really makes me laugh these days or a book that really makes me laugh I'm so grateful because there seems to be so little of that genuine real earned humour around anymore but at the moment I find it very difficult to combine that with the idea of a book about current politics I just don't find current politics very funny I guess maybe that's an age thing maybe when I was in my early 30s when I wrote The Left Family Winshaw it was easier to laugh at these things but anyway I hope I find a way of doing it adesso il mio desiderio sarebbe quello di scrivere un libro divertente un libro che faccia ridere questa è davvero la mia ambizione per il futuro come spettatore quando incontro mi capita di vedere un film o di leggere un libro che fa ridere sono grato a chi l'ha fatto semplicemente mi piace trovare del vero e puro e sano humour in un libro o in un film semplicemente forse adesso è un po' difficile riuscire a fare a scrivere un libro che faccia ridere che sia al contempo un libro che parli di politica non trovo la politica di oggi granché divertente forse è una questione d'età non lo so vogliamo parlare di letteratura in generale quando ha deciso di fare lo scrittore era per i libri che ha letto o è stato il contrario prima li ha scritti e poi li ha letti di letteratura e poi è stata l'opposita la politica non lo so non lo so mai decidi di essere un writer solo ho fatto in generale quando ero 8 anni e lo so mi ricorda la prima che ho scritto ma non lo so non lo so mi ricorda la prima che ho scritto si è stato esattamente il contrario diciamo che io non ho mai deciso di diventare uno scrittore ho cominciato a scrivere che ero molto piccolo avevo otto anni mi ricordo benissimo il primo libro che ho scritto ma non mi ricordo altrettanto bene il primo libro che ho letto forse dunque il primo che ho scritto è arrivato prima di quello che ho letto era una sorta di pastiche non tanto dei generi letterari che avevo letto fino a quel momento quanto dei fumetti che avevo letto fino a quel momento mi piacevano ma non ero bravo a disegnare quindi presi quei personaggi e li trasformai in una storia e era un po' quella che forse oggi definiremo con il termine fan fiction giusto? e quando è che ha trovato i libri che avrebbe voluto leggere? da ragazzino, da ragazzo, da ragazzino la ragazzo, da ragazzo, da ragazzo, da ragazzo, da ragazzino il libro che mi ricordo che mi ricordo una vera impressione era Animal Farm di George Orwell ma non avevo capito che era una allegoria politica a quel punto non nemmeno nulla della rivoluzione russica solo pensavo che era una storia ma triste di un movimento sociale che si è fatto quindi la politica mi ha impressionato in un modo general senza sapere cosa c'era specificamente sì, diciamo che forse le prime letture che ricordo sono arrivate da adolescente il primo libro era La fattoria degli animali di Orwell anche se ovviamente non avevo colto l'allegoria politica che ci stava dietro per me era semplicemente un movimento riscriveva un movimento sociale molto forte, molto potente molto triste è andato poi male e quindi non avevo colto fin dall'inizio quei collegamenti politici che invece ci sono la prima cosa che mi ricordo che mi ricordo una grande impressione non è un libro ma un play che era Il Caretaker di Harold Pinter che abbiamo studiato a scuola e che mi ricorda che mi ricorda come raggiungo e come schiavano e wrong i percepiti di queste cose perché ho pensato che era una storia perché era presente per noi come una cosa studia come una cosa come una cosa e ancora quando l'ho read che era nel 1975 era solo 15 anni era una cosa molto recente di lavoro ma mi ricordo amare il dialogo e amare la juxtaposizione di comedia e menace la seconda cosa che ricordo era un'opera teatrale di Harold Pinter che ci era stato chiesto di leggere a scuola ero molto giovane quando ci fu chiesto appunto di leggerla pensavo così che sarebbe stato che era una lettura un po' datata semplicemente perché appunto dovevamo studiarla a scuola come un qualcosa di classico era il 95 avevo 15 anni rimasi veramente colpito dai dialoghi e dal livello di commedia che era contenuto in questa opera and then a year or two later my memory is that there were two books which I loved equally which were The Lord of the Rings by Tolkien which I read again and again and also Catch-22 by Joseph Heller two completely different books two completely different signposts in different literary directions one a very serious but extremely funny satire on the absurdity of war and the other a very solemn and unique work of fantasy so it seems strange to me now that I should have been able to be equally fond of both of those books but clearly one of them must have impressed itself upon me more deeply because I didn't start writing about hobbits and elves I started writing satire instead one or two anni dopo ci furono altri due libri che catturarono il mio interesse Il Signore dell'Anelli di Tolkien e Catch-22 due libri quindi molto molto diversi entrambi due grandi pietre miliari in due direzioni completamente diverse uno un libro serio ma al tempo stesso divertente una sorta di satira della guerra e l'altro invece un libro solenne unico nel suo genere sicuramente è strano se io ci ripenso oggi che mi siano piaciuti entrambi allo stesso modo evidentemente uno ha avuto un effetto maggiore su di me visto che poi non mi sono messo a scrivere di hobbies eccetera e oggi che cosa legge oggi i read the newspapers i read magazines mostly online i have to say i read history particularly for the book i'm writing at the moment which has required some historical research but what i'm starting to lose the habit of at the moment which alarms me is reading fiction i think i've only read two novels this year which is very few for me and i can't explain that i'm hoping that it's something like the loss of my sense of humour that it's just a temporary blip and the desire to immerse myself in other people's stories is going to come back but I'm I'm often asked at these events to recommend books for my readers to read but I would do it the other way around today actually and if anybody has any suggestions of books that I could read to rekindle my enthusiasm for reading novels then feel free to come forward read 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 journal quotidiane riviste ammettere che le lego in gran parte online e poi leggo libri di storia in particolare ho fatto tanta ricerca storica per il libro che sto scrivendo adesso però devo ammettere forse una cosa un po allarmante sto leggendo ultimamente veramente pochi romanzi in quest'anno ne ho letti soltanto due che per i standard sono veramente molto pochi non so perché forse un po come la perdita dell'umorismo magari soltanto un momento un buco momentaneo e prima o poi velocemente comincerà a tornarmi il desiderio di immergermi nelle storie di altre persone spesso in eventi come questo mi viene chiesto di raccomandare di consigliare qualche buona lettura adesso io faccio esattamente la cosa opposta e cioè chiedo a voi se avete qualche buona lettura da consigliarmi per favore venite e ditemi beh è molto sincero almeno secondo dice lui lo sa dice che il critico è superiore all'artista perché un critico può ammirare tutti gli scrittori invece uno scrittore fa talmente tanta fatica a diventare quello che è che non può capire gli altri non li possono piacere e se dice che gli piacciono mente non è vero perché in realtà è solo concentrato in quello che fa lui Sì, è assolutamente vero. Per definizione, un buon scrittore è qualcuno che quando legge il suo libro veramente colonizza la tua immaginazione ti prende, ti trasporta, ti indirizza nei percorsi dove lui vuole portarti e se stai scrivendo il tuo proprio libro e succede una cosa del genere con una lettura che stai facendo parallelamente è un vero disastro come scrittore tu vuoi avere pieno controllo della tua voce. Ecco perché in un momento in cui mi dedico alla scrittura di un altro libro trovo difficile dedicarmi alla lettura e di un altro romanzo e preferisco invece dedicarmi ad altre letture che mi portano su altri livelli. E guardandosi intorno trova degli spunti. Io mi ricordo essendo molto più vecchio di lui mi ricordo negli anni 50 gli scrittori inglesi alla fine degli anni 50 quando venne fuori Pinter quando venne fuori Osborne gli scrittori inglesi si lamentavano che in Inghilterra non c'era niente da raccontare perché non succedeva più niente passata la guerra passa tutto è un momento di stagnazione non succede niente di eccitante bisogna andare all'estero non mi sembra che questo sia il caso con l'Inghilterra di oggi mi sembra una società molto più inquieta di quella della fine degli anni 50. No, you're absolutely right and you use the word restless about Britain at the moment and that's one of the difficulties about writing it really that a stagnant society really is easier to write about than a society that's in a constant and rapid state of flux as British society always is it's a very neophiliac society we're constantly reinventing ourselves we're in love with the new and for a writer that presents new challenges really I tried to do this in La Femiglia Winshaw which is a novel that I wrote between the years 1990 and 1993 about events which had only really happened four or five years earlier and even more so I think in the closed circle if I remember rightly I was writing about things like the protests against the Iraq war almost as they were happening but the danger with that kind of thing I think is that you lose a little bit of perspective you lose a little bit of distance and the ability to reflect that you need if you're going to take this mass of material and turn it into something that is not just journalism but it is a properly shaped and organized piece of fiction Yes, it is absolutely true you said that you are a British society irrequieta well, for a writer it is much easier to describe and describe a society than a society compared to a society in continuo change and fluttuation let's say let's say the society britannica of today is a society that I would define neo-filiac it is a society that adora reinventarsi ama everything that is new and for a writer this represents a real and real challenge in the book The family Winshaw written in the 1990 and 1993 and also after in the Circus Chiuso I raccontato the event that correspond to the moment in which I lived but it is not easy farlo perché per poter scrivere devi prendere una certa distanza da quello che sta raccontando devi guardare tutto con una certa prospettiva se non vuoi trasformare quello che scrivi in vero e proprio giornalismo e invece ne vuoi fare un racconto un romanzo che abbia una sua forma precisa I think the interesting thing about a writer like Pinter is that when he complained that British life in the 50s was stagnant and gave him nothing to write about that was actually the context that created his best plays and his best political plays actually because something like The Birthday Party or The Homecoming are better political plays than I think than what he wrote later in his life when he was much more overtly and specifically engaged in contemporary politics so there's no easy correlation between the two things writing up to the minute very directly about current political events doesn't mean that what you're writing is going to be either as political or as good as you're hoping it would be Pinter dicevamo Pinter lui diceva appunto quando dice che la società degli anni 50 era una società stagnante ma pensiamo a quello che ha scritto dopo nel Birthday Party o negli altri libri che ha scritto dopo quando si è dedicato a libri che erano più legati agli avvenimenti politici forse quelli erano dei libri migliori devo dire che alla fine non è facile mantenere questo rapporto cioè riuscire a scrivere di una cosa che è avvenuta il giorno prima l'istante prima che è molto collegato a un evento storico e saperne parlare non come un giornalista e chi è il più grande scrittore inglese vivente la letteratura non è una competizione quindi non c'è il meglio e il peggio e tutte le risponde alla letteratura sono molto subiettive quindi posso dirvi chi sono i miei favoritosi scrittori ma non posso dire che sono i migliori ma la letteratura non è una gara quindi non c'è mai il migliore non c'è mai il peggiore è tutta una questione di piacere personale è tutto molto soggettivo posso dirle forse chi è il mio preferito non chi è il migliore probably my favorite living British writer is Kazuo Ishiguro and my probably my favorite British novel of the last 30 or 40 years is his novel The Remains of the Day but I also very much like a Scottish writer called Alastair Gray who wrote three magnificent comic satiric political novels in the 80s in the 1990s and is still very much alive and writing great things so those would be the first two names that sprung to mind quindi i miei preferiti sono il britannico Ishiguro che ha scritto Quel che resta del giorno e poi un grande scrittore scozzese Alastair Gray che ha scritto tre bellissimi libri satirici umoristici molto belli negli anni 80 90 ecco forse questi sono i due nomi più importanti che mi vengono in mente e nel passato I prefer minor writers to major writers in fact I don't really know what the words minor and major mean in this context but I'll use them as a kind of short hand different successful writers posso ancora una volta elencare quelli che sono i miei preferiti non quelli che sono assolutamente i migliori però molto spesso i miei preferiti non corrispondono per niente con quelli che sono generalmente considerati più grandi autori forse ci riporto un po' a quello che dicevo prima sono un po' più attratto dai perdenti dai personaggi che non mi piace ma possiamo definirli minori gli autori scusate minori rispetto agli autori maggiori non mi piace usare queste definizioni ma le usiamo per comodità and also just before I came here I was listening for a few minutes to Ian McEwan talking in one of the other theatres in Pordenone and he was he was talking about the importance of doubt and he was talking about it more in a in a wider political sense about how he preferred people who were full of doubt to people who were full of faith but I have the same feeling about writers and what I like when I read a writer is not just not just the story not just the characters not just the emotion of the book but some sense maybe at the back of the writing somewhere hidden that the writer has a degree of doubt or a degree of even you know self-questioning about the the validity of writing novels writing fiction in the first place prima di venire qui sono andato a seguire in parte la presentazione di Ian McEwan che ha dato proprio qui a Pordenone e nella sua presentazione parlava del dubbio nel senso più generico nel senso di dubbio politico diceva che lui preferisce di gran lunga le persone che hanno tanti dubbi rispetto a quelle che invece hanno tanta fede e io la penso esattamente così per quanto riguarda gli scrittori quando leggo un libro non sono tanto attirato dalla storia del libro dai personaggi dalle emozioni quanto mi interessano e sono colpito da quegli scrittori che nutrono dei dubbi che si pongono delle domande circa la validità del loro scrivere un romanzo di scrittori che facciano pensare la validità la necessità di quello che facciamo leggere e scrivere fictine mi piace mi piacciono gli scrittori che non ci descrivono semplicemente non ci fanno semplicemente riflettere sul mondo quanto ci fanno riflettere sulla letteratura e ci descrivono la letteratura come un mezzo per capire per interpretare il mondo quindi mi piacciono i libri come Shandi i libri di Italo Calvino i libri di Javier Marias uno spagnolo che fa questa mix fra i saggi e i romanzi quindi questi libri che ci fanno riflettere sulla validità e sulla necessità di leggere e di scrivere ed è quello che ho cercato di fare nell'ultimo capitolo del libro i segreti di Maxwell Sim però sembra che ai lettori non sia piaciuto e quindi prometto che non lo farò mai più dunque lo abbiamo strizzato come un limone però possiamo continuare a farlo anche con domande dalla sala se qualcuno ha qualche curiosità generosamente Jonathan Coe è disposto a rispondere a qualcuno se qualcuno ha qualcosa da chiedere abbiamo un microfono da dare qualcosa poco prima lui diceva che gli inglesi molto di rado fanno delle domande perché sono più timidi ma è sicuro che invece gli italiani si buttano forse è esaurito tutto eccolo là c'è un microfono per quel signore laggiù io sto leggendo come un furioso elefante e volevo sapere qual è il suo rapporto con gli editori italiani e anche quelli inglesi magari grazie è un po' Non mi era chiaro l'inizio, l'innesso fra la lettura che sta facendo e il mio rapporto con l'editore, ma adesso l'ho capito, sì. Forse dobbiamo dire che questo libro, che non tutti conoscono, anche perché è abbastanza recente, è una grossa biografia che Coe ha dedicato a uno scrittore praticamente sconosciuto della sua generazione, ma morto molti anni fa, giovane, e che era, adesso per riassumerlo, è stato in perenne conflitto, tra l'altro con l'editoria eccetera, quindi è un personaggio molto scomodo. È un libro molto difficile per loro pubblicare, è un libro grande, non è uno dei miei noveli, ma ha molte qualità novelistiche, credo, e le persone sono molto scoperte di questo libro, perché è su un scrittore, è una biografia di un scrittore che nessuno ha veramente ascoltato, chiamato B.S. Johnson, Brian Stanley Johnson. Adesso che ho capito la domanda, la trovo veramente una domanda molto bella e la ringrazio, perché mi ero dimenticato di raccontare e parlare di questo libro, per il quale devo ringraziare il mio editore, la Feltrinelli, perché era un libro veramente difficile da pubblicare, anzitutto perché è un libro grosso, non è un romanzo, ha delle qualità narrative tipiche di un romanzo, però è un libro che spaventa la gente, i lettori, perché è la biografia di uno scrittore che pochissime persone conoscono, B.S. Johnson. He was a man of very violent extremes, and he only wrote and published for ten years, and in that time he went through about four or five different publishers and four or five different agents, because the relationship would always start with great declarations of love, and he would say that you're the best publisher in London, and I'm so delighted that you're publishing me, and then after one or two books something would go wrong, he would sack them, he would storm into the office and shout at them, and the whole thing would have to start over again, which is not like me at all. Era un uomo da estremismi e, in un certo senso, violenza. Per dieci anni è stato appunto sulla scena, ma è cambiato in questo periodo quattro, cinque editori, quattro, cinque agenti letterari, tutto cominciava sempre con una grande dichiarazione d'amore nei confronti dell'editore, sei il migliore editor a Londra, sono felice di lavorare con te, e poi dopo un paio di libri qualcosa andava completamente storto, licenziava tutto, usciva dagli uffici sbattendo le porte, e tutto doveva ricominciare dall'inizio, cosa che mi auguro non sia mai successa con me. But it's a very important book to me, and it's not just, to me, a book about another writer, an unknown writer. There's a question I'm often asked at sessions like this, which I'm pleased to say you didn't ask tonight, which is, why do you write, or why do we write? And I'm glad you didn't ask me, because it's an impossible question to answer, but I did write this book in order to try to answer it for myself, if I could, because B.S. Johnson believed that he wrote in order to make himself less unhappy. He believed that he could heal the world, or he hoped that he could heal the world, both the wider world and his own internal world, by taking the aspects of experience that he found painful or unacceptable and internalizing them into a book. And the tragedy that befell him in the end, because his life story is tragic, made me think, at the end of the very long and difficult process of writing and researching this book, that his mistake had been maybe to ask too much of literature. Per me è stato un libro molto importante tuttavia, perché non è semplicemente un libro che parla appunto di uno scruttore quasi sconosciuto. Molto spesso mi viene posta una domanda che per la verità questa sera non mi è stata posta e ne sono molto felice, perché è una domanda alla quale è quasi impossibile rispondere, ma è la stessa domanda alla quale io pensavo sarei riuscito a rispondere scrivendo proprio questo libro. E cioè questo autore pensava che forse scrivendo sarebbe riuscito a ridurre la sua infelicità, sarebbe riuscito a curare il mondo, sia il mondo generale, ma anche il suo mondo interiore, il suo mondo interno, prendendo tutte le esperienze difficili, quelle più dolorose, e internalizzandole. Però alla fine in realtà tutto finisce con una vera e propria tragedia. E io in questo lungo processo di scrittura di questo libro, un processo anche di ricerca che mi ha portato alla stesura del libro, sono arrivato alla conclusione che forse questo autore chiedeva troppo dalla letteratura e per questo non l'ha ottenuto. Sì, laggiù, uno e due, dove siete voi con i microfoni? L'angelo col microfono. Ecco, sì, sì, funziona. Intanto, buonasera. Sono qui? Allora, il modo di esprimersi è naturalmente vario. Io ho notato che nei suoi libri c'è tanta musica e quindi vorrei sapere, è anche una certa invidia per i musicisti, quindi vorrei sapere se trova delle analogie tra le due forme espressive, la letteratura e la musica e qualche differenza, magari sostanziale. Le ringrazio. E se ascolta ancora Lee Smiths? Do you still listen to the Smiths? I hadn't listened to the Smiths for a long time, actually, and then I was listening to my iPod on Shuffle the other day and a Smiths song came up and I was just amazed by how fresh and modern and, you know, exciting it seemed to be to me. I'd forgotten what a great band they were and, you know, Morrissey is still one of my heroes of mine and I knew he wouldn't agree to sing at the opening ceremony of the Olympics or the closing ceremony and that just increases my respect for him that he refuses to become any kind of establishment figure. No, in effetti non li ascoltavo più da tanto tempo e poi l'altro giorno, quasi per caso, sul mio iPod mi sono trovato appunto questa, sul mio iPod Shuffle mi sono trovato questa canzone questo gruppo, la musica di questo gruppo e mi sono reso conto di quanto questa musica fosse ancora fresca, moderna, tanto interessante mi ero quasi completamente dimenticato di questa band Morris per me è un vero e proprio eroe ero sicuro che non avrebbe mai voluto cantare né per la cerimonia di apertura né quella di chiusura delle Olimpiadi e questo, proprio questo, questo suo non voler far parte dell'establishment me lo rende ancora più eroico. And I do, I do kind of envy the role of the composer in a, but in a very abstract way and in a rather childish way, I suppose when I'm, when I'm sitting at my desk and words won't force themselves into the order I'm trying to get them into and language seems such a kind of intractable and clumsy instrument in which to try to express yourself I find myself thinking, well, I know what I want to express here and it would be so nice if I could express it through a violin or through, you know, the slow movement of a string quartet or something like that but I think the life of a contemporary composer or musician is not at all enviable at the moment it's very, very precarious it's really the first of the major art forms I suppose where new technology file sharing technology has really had a serious and damaging impact on the ability of these people to make a living from what it is they do and I do worry about that because so many of the musicians and composers that I know are finding it impossible to make a living from what it is that they do now and, you know, of course, as a writer I worry that that's going to be the case in the publishing business before long as well Yes, I have a certain envidia for the role of the composer but a role, seen a little with the eyes of a child in a way for a little bit too astratta sometimes I'm sitting at my table I'm writing the language seems almost impossible to manage to express exactly what I want and I tell you oh, how would it be to be able to tell and express all this simply with a violin so with the use of the arch etc but I can say that today the life of a composer and of a musicist is not for anything easy it's a life absolutely precarious think about new technologies the ability to share the file musicals think about the impact that all this has on the life of a musicist that from music should be gaining from living the thing is that I worry about there are many musicians and composers at the time of today that have difficulty to live to live to live thanks to your music and as a writer I worry about it the possibility of thinking that maybe the same thing could happen as a writer molto le mani poi basta perché facciamo tardi avevo i supporter che mi aiutavano allora la mia domanda è io ho letto con grande passione sia The Rotter's Club che Close Circle e mi chiedevo se nel momento in cui veniva scritto il primo era già c'era già il seme del secondo e se già aveva pensato diciamo come concludere questa saga a mio avviso bellissima e detto questo mi chiedo come mai solo due libri intorno a questo a questi personaggi quando per esempio ce ne sono altri tra l'altro un'analogia che mi sento di fare con la saga dei Malussan che casualmente ha al centro un personaggio che si chiama esattamente anche lui Benjamin alla francese invece che Benjamin e con in cui tra l'altro e tra i due vedo anche diverse analogie sono tutti due un po' appartenenti appunto al mondo dei perdenti di quelli un po' emarginati che però alla fine insomma hanno un loro fascino indubbiamente e quindi niente questa era la mia domanda un po' appena è un'analogia che si chiama esattamente un'analogia che aveva I was at school myself, so that's probably 1977, 1978, what is that, is that 32 years ago or 42 years ago, even I get confused, it's a long time ago anyway, and I always had it in mind that I would write a long sequence of novels about the same group of characters beginning with their school days and taking them up to, I don't know, whenever, middle age. And my model, I suppose, was the Anthony Pohl sequence, A Dance to the Music of Time, which is a great roman fleuve in the English language. And his sequence is in 12 volumes, and I thought that was too ambitious, so I decided to write six volumes, and I had a very clear idea of what it would look like when I was finished. Sorry. You had a clear idea? Okay. Devo pensarci un po', perché è successo tanto, tanto tempo fa, e in effetti io ho cominciato a scrivere La Banda dei Brocchi quando ero io stesso a scuola, stiamo parlando del 77, 78, quindi cosa sono, 32, 42 anni fa, non lo so, mi confondo anche io, comunque tanto, tanto tempo fa. Avevo in mente, appunto, di scrivere questa serie molto lunga, che raccontasse la storia degli stessi personaggi, a partire dalla loro infanzia, da quando erano a scuola, e vederli crescere fino a diventare degli adulti. Il mio modello era la serie di Anthony Pohl, 12 volumi. Bene, allora per accorciare i tempi, per farla breve, perché ora di cena si sta avvicinando, mi hanno detto che il cibo a Pordenone è fantastico, e quindi non vedo l'ora di andare a mangiare. Posso dire che, appunto, ho scritto, di questi sei volumi, in realtà ne ho scritto soltanto il primo e l'ultimo, quindi La Banda dei Brocchi e Il Circolo Chiuso, mancano i quattro in mezzo. Così, sono stati pubblicati in questo modo, il primo e il sesto, chissà, magari un giorno scriverò i quattro che mancano. Con questo concludiamo. Grazie a Jonathan Coe, grazie a Pordenone Legge, grazie al pubblico. Grazie. E il sito è a sinistra e firmerà le autografie.